Allora, allora, ieri Di Marzio lancia una bomba di quelle surreali, di quelle pazzesche, clamorose. Eravamo lì in diretta e Di Marzio lancia una bomba non indifferente. Cioè, su Cade a Calcio Mercato l'originale parte una bomba non indifferente. Il Chelsea apre all'eventuale prestito di Romelu Lukaku. E questa, ragazzi, è una notizia che magari ai più sarà sembrata tranquilla, ma fidatevi che non è così. Non è così, perché se l'Inter vuole Lukaku, se Lukaku spinge per andare all'Inter e lasciare il Chelsea, e l'unico problema è che Lukaku ha un cartellino pari a 100 milioni di euro, se il Chelsea apre il prestito, vuol dire che il gioco è fatto. Se fate uno più uno, vuol dire che il gioco è fatto, ragazzi. Ora, non stiamo parlando di un'ufficialità e non ve la voglio manco guffare, ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Però la notizia che da Di Marzio, con il Chelsea che apre, è una notizia che è destinata a far parlare anche nei giorni successivi. Io in questi giorni, su questo canale, tra l'altro iscrivetevi, iscrivetevi in questo momento, il 40,6% di chi mi segue non è iscritto al canale. Abbassiamo questa media, cerchiamo di abbassarla, iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, poi soprattutto le notifiche se non vi iscrivete non vi arrivano e non vedete nemmeno i video, ve li nasconde YouTube. Quindi cercate di seguirmi iscrivendovi, tanto non vi costa nulla. Iscrivetevi e via. Dicevo, questi video di notizie di mercato giornalieri ve li sto portando su un altro canale, Simone Sicco, al fatto che pubblico 2-3 video al giorno, poi dipende anche dai like che arrivano, per quanto riguarda il video in questione del calcio mercato. Però questa notizia, e questa notizia che potrebbe creare un trio niente male, insomma, secondo me meritava uno spazio più grande e meritava un video dedicato. Quando qualcosa merita un video dedicato, decido di farla. L'Inter lo vuole, ragazzi. L'Inter vuole Lukaku, l'Inter vuole il calciatore. Inutile che mi dite, ma siamo sicuri che l'Inter sarebbe disposta a fare quel salto, quel passo? Secondo me sì. Cioè, per l'Inter, l'Inter è stupida, secondo me, se non prende Lukaku, soprattutto con il Chelsea che apre al prestito. Cioè, ragazzi, Lukaku è la punta ideale, è l'attaccante perfetto. Cioè, nessun Lautaro, nessun Dzeko, nessun Dybala potrebbe sopperire alla mancanza di un attaccante di peso come Lukaku. Magari, e questo io non posso saperlo, non posso dirvelo, non ci posso giurare, magari l'Inter avrebbe perso lo scudetto anche lo stesso, anche con Lukaku. Ma la mancanza di un calciatore come Lukaku quest'anno è pesato tantissimo. E secondo me, se riuscissero a riportarlo a Milano, lì dove lui si è consacrato come il re di Milano, regalando uno scudetto all'Inter da grande protagonista, secondo me tornerebbe a quei livelli che ci aveva abituato a vedere. Però, va detto un'altra cosa, però per Dybala è tutto aperto. Perché ieri Marotta, quando esce appunto dal consiglio, d'amministrazione, di direttori sportivi e tutto quanto, gli viene chiesto, ma Dybala? E lui dice, vediamo. Vediamo, ragazzi, io l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, insomma, vediamo è una frase che vuol dire tanto. Secondo me non è una di quelle frasi che diceva, vuol dire tutto e non vuol dire niente. No, per me vuol dire tanto. Cioè, il vediamo vuol dire, stiamo vedendo cosa si può fare. Quindi la trattativa c'è, quindi probabilmente ciò che si dice in giro, cioè che l'Inter sta aspettando di liberarsi di Vesino, di Vidal e di Sanchez, insomma, per il peso importante dell'ingaggio, è reale. Perché altrimenti tu non parli di un tuo tesserato, dici Dybala è forte, punto. Oppure dici no, non dico nulla. Se dici vediamo, se poi Zannetti, che comunque è in dirigenza con l'Inter, dice sarebbe bello vedere lo gioco con Lautaro, insomma, capite bene che comunque stiamo parlando di una situazione in cui l'Inter sta trattando per portare Dybala a Milano. E Lautaro è ancora lì. Ho sentito di Bastoni, ho sentito di Dumfries, ma non ho sentito situazioni che vorrebbero Lautaro fuori da Milano. Poi ogni tanto qualcosa esce, però non l'ho sentito. Allora, a questo punto voglio fare una precisazione, perché poi queste sono voci di mercato. Il Chelsea che ci guadagna? Ve lo dico chiaramente. Ma che ci guadagna il Chelsea, ragazzi, invece, rispondo, a tenerlo in panchina? Cioè, che ci guadagna il Chelsea da avere un calciatore scontento, che prende una barca di soldi, tenerlo in panchina che magari ti rovina anche il clima? Niente. Anzi, anzi, perché tra un anno, con un anno di panchina, il calciatore si è completamente svalutato. E quindi non si fa nient'altro che andare di male in peggio. Proprio per questo, secondo me, è importante che il Chelsea riesca a fare una mossa che porti alle casse del Chelsea i più soldi possibili. Quindi, o il prestito, anche secco, volendo, ma io dubito, sinceramente dubito che il Chelsea aprirà un prestito secco, però anche secco per cercare di rivalorizzarlo e magari l'anno prossimo venderlo a molto di più, ma soprattutto magari a un prestito con un diritto di riscatto, obbligo di riscatto, atto comunque a far guadagnare il Chelsea o quest'anno o nei prossimi anni. Quindi rientrare nel bilancio, rientrare nella spesa fatta, fare un passo indietro. Da come parla Di Marzio non si capisce se il Chelsea apra un prestito secco, quindi un gran prestitone, o un prestitone però con diritto, con obbligo, con un diritto che diventerebbe obbligo, con un obbligo che non diventerebbe diritto. Noi questa cosa non la sappiamo. Ora, se io dovessi ipotizzare, se dovessi lanciarvi la mia sentenza, io vi direi che secondo me l'Inter farà un... cioè, insomma, il Chelsea aprirebbe a un prestito oneroso di circa 20 milioni di euro immediatamente con un diritto di riscatto fissato, stimato, sui 50 milioni più bonus, quindi un totale di 70 milioni in due anni, magari, no, il prestito biennale non si può più fare, questo no, però, magari, che ne so, un 20 milioni ti do subito, se tu l'anno prossimo decidi di darmene 50, non saranno i 120, 130, quel che so che ti ho dato l'anno fa, però prendermene 70, dopo un anno che ha fatto al Chelsea e un anno che ha dato all'Inter, insomma, mi farebbe anche comodo. Cioè, mi andrebbe anche bene. Faticherei, mi roderebbe il culo, però, tutto sommato, mi andrebbe anche bene. Dall'altra parte c'è il discorso relativo al giocatore che magari non si trova bene, cioè, nel senso, magari fa un anno l'Inter, fa cagare l'Inter, dice, guarda, te lo riprendi, però, intanto, il Chelsea si è intascato 20 milioni di euro. E 20 milioni di euro sarebbe una cifra importante perché ti permetterebbe di ammortizzare il prezzo del cartellino in tanti anni e in un anno si sono rientrati in plus valenza 20 milioni di euro, mentre per l'Inter, insomma, vero che spenderebbe 20 milioni rischio fondo perduto, però puoi mettere a avere Romelu Lukaku che magari ti fa avere quei 6-7 punti in più che a fine anno ti regalano lo scudetto o il piazzamento agli ottavi e quarti di Champions e quindi quei 20, 30, 40, 50 milioni di euro in più e quindi l'Inter è una mossa che, secondo me, farebbe molto volentieri. Però poi l'ho detto, l'Inter deve liberarsi prima di tutto di Vidal e di Sanchez che sono due cartellini pesanti e se Vidal probabilmente prenderà 4 milioni di euro di buon uscita e poi si aggregherà il Flamengo lì dove vuole andare, su Sanchez la situazione è abbastanza diversa perché Sanchez vuole andare via solo davanti a offerte concrete e interessanti. Gli è arrivata un'offerta, se non sbaglio, dal Galatasaray ma non andrà a giocare al Galatasaray Sanchez. Non vuole, vuole la Liga, infatti l'Inter lo sta proponendo a tutti, l'ha proposto al Sevilla, l'ha proposto a diverse compagini spagnole e bisognerà vedere se qualcuno se lo prenderà. Ora facciamo un calcolo però. Iniziamo a ragionare su quello che l'Inter potrebbe voler fare, cioè un'operazione che secondo me sarebbe qualcosa di clamoroso. Ciò che renderebbe l'Inter la squadra più forte del nostro campionato che già, insomma, probabilmente lo è o lo è a pari con il Milan o lo è insieme a Milan e Juventus quindi fanno un trio importante. Fare questa cosa renderebbe l'Inter la prima per distacco, secondo me. Perché allora la mia domanda è se l'Inter prende Lukaku, non prende Dybala? Magari, perché poi magari Dybala lo prendiamo noi della Roma e quindi ben venga, però ho i miei grossi dubbi. Ho i miei grossissimi dubbi. Però allora a questo punto si apre una seconda porta. Se prende Lukaku, ma prende anche Dybala perché per me Dybala lo può prendere indipendentemente da Lukaku perché Dybala vuole rimanere in Italia perché è un pallino di Marotta perché è un giocatore che non si sposterebbe nemmeno troppo geograficamente parlando rimanendo al nord Italia e non abbandonando quelle tradizioni che ha, diciamo, ottenuto in questi anni in Italia se dovesse essere così, se dovesse prenderli entrambi ci sarebbe un'altra possibilità ovvero quella di dire non cedo bastoni, me lo tengo quindi se dovesse prendere Bremer non andrebbe per cedere bastoni ma farebbe la difesa con Bremer, Skriniar e bastoni non cedo Dufris, me lo tengo quindi anche gli eventuali arrivi Bellanova, Cazzi e Mazzi non sarebbero appunto correlati alla partenza eventuale di Dufris però vado a vendere Lautaro Martinez quindi lo vendo, ci faccio 70-80 milioni di euro che è la cifra nella quale più o meno l'Inter dovrebbe rientrare e questo permetterebbe all'Inter di fare una mossa clamorosa perché incasserebbe questi 70-80 milioni prima del 30 di giugno lo capiremo comunque tra pochi giorni perché mancano veramente pochi giorni a fine giugno successivamente l'Inter comunque andrebbe a pagare questi 10-20 milioni di prestito oneroso per Lukaku Di Bala lo prenderebbe a parametro zero con le partenze di Vitale e Di Sanchez e davanti farebbe Di Bala dietro a Lukaku tenendo il 3-5-2 e essendo rientrati comunque dei 70 milioni di euro non perdendone in qualità è vero che l'anno prossimo poi dovrai riscattarlo a Lukaku se non vuoi perdere pezzi importanti però qui non si parla della perdita di Lautaro per prendere Lukaku qui si tratta della perdita di Lautaro per prendere Di Bala quindi comunque va da tu l'anno scorso giochi con Lautaro e con Giacomo questo anno giocheresti con Lukaku e con Di Bala chi prenderebbe il posto di Lautaro è Di Bala non Lukaku avere Lukaku sarebbe solamente un plus però a questo punto c'è una novità c'è una possibilità che solamente pensarla secondo me è da brividi cioè che l'Inter voglia fare Di Bala e Lautaro dietro a Romelu Lukaku e questo renderebbe secondo me l'attacco dell'Inter forse uno dei più forti del mondo che vi piaccia o no perché credo che Di Bala in generale messo in condizione con qualità possa rendere da uno dei calciatori più forti del mondo Lautaro Martinez l'abbiamo già visto Lukaku non lo scopriamo di certo oggi poi il fatto che non si sia integrato al Chelsea è un altro paio di mani che ci sta cioè non vedo niente di così clamorosamente strano che Lukaku non si sia integrato al Chelsea tanti calciatori hanno cambiato maglia e non si sono integrati anche Rivaldo per dire quindi non la vedo una cosa così strana fatto sta che poi penso però che se l'Inter dovesse tenerli tutti e tre a parte che sarebbe qualcosa di pazzesco ma soprattutto in quel caso credo che Inzaghi passerebbe ad un eventuale 3-4-2-1 quindi con Andanovic o Nana in porta poi ho fatto una sorta di previsione di questo tipo sul mio mercato che farei dell'Inter che ve lo lascio qui in alto nelle scade recuperatevelo però il Chelsea ancora non aveva aperto al pratico e quindi molti mi hanno detto che ero un coglione che stavo fantasticando adesso il Chelsea è aperto quindi direi 3-4-2-1 quindi con magari Skriniar, Bastoni e uno tra Bremer e De Vrij poi appunto a centrocampo i due dovrebbero essere Brozovic e Barella sulle fasce giocheresti con Gosens e con Dumfries quindi è vero che Barella forse un pochino perderebbe nel centrocampo a due perché non sarebbe una mezzala ma farebbe parte del duo di Mediana però comunque lì poi sulla tre quarti avresti Lautaro e Di Bala dietro a Lukaku e qualcuno attentamente dirà sì sì ma tutti gli altri centrocampisti Cialanoglu fa giocare in Mediana no, Cialanoglu lo riporti al suo ruolo originario ovvero Panchinaro no, il ruolo originario non era il Panchinaro però del trequartista quindi giocherebbe sulla trequarti e Mkhitaryan che ha appena preso dalla Roma Mkhitaryan ragazzi è un trequartista cioè Mkhitaryan in realtà l'ultimo anno a Roma ha giocato da mezzala quindi all'Inter sulla carta senza occasioni speciali arriva a fare il panchino a Cialanoglu però se prendi questi Mkhitaryan torna a fare il trequartista di Panchina Cialanoglu torna a fare il trequartista di Panchina e Di Bala e Lautaro sono i titolari con Dzeko, Panchinaro e Lukaku e così l'Inter farebbe secondo me la squadra più forte d'Italia se prende Bremer, Di Bala e Lukaku fa la squadra più forte d'Italia l'apertura che dà Di Marcio ieri è qualcosa di clamoroso è proprio come consegnare in mano agli interisti una speranza che è la speranza più importante dell'anno questo un po' pesa perché la speranza non sempre poi è fatta per realizzarsi però diciamo diciamo che insomma è giusto è giusto che si sogni è giusto non dal mio punto di vista è tifo Roma però magari magari ce l'ho sciato di Di Bala però se fanno il trio ragazzi è clamoroso se fanno il trio è clamoroso fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per aver visto questo video tantissimi mi piace buona ciao all'alene come sempre ci vediamo al prossimo video madonna madonna madonna